San Matteo ci esorta a non accumulare tesori sulla terra, poiché i tesori della terra periscono, quelli del cielo no. Il Vangelo dice, dov'è il tuo tesoro? La sarà anche il tuo cuore. Perché il nostro cuore continua a battere? Per la forza della vita? No, il nostro cuore continua a battere per amore. È l'amore che ci tiene in vita. È l'amore che diamo e l'amore che riceviamo. Levateci l'amore e noi cadremo come un vestito usato. Levateci l'amore e marciremo come carne morta. L'amore è come un bellissimo fiore che si deve avere il coraggio di cogliere sull'orlo di un precipizio. Senza l'amore il giorno non finisce mai. Senza amore l'uomo non ha amici. Senza amore si cammina verso il nulla.